Sei contento? Molto contento! Ma che è scritto? Che è scritto? Sei finito! Finito! Ti rendi conto che festeggiano in nulla? Con chi la perdo? Con chi la perdo? Con chi la perdi? Visto che stai festeggiando in piazza Duomo! Ti voglio vedere il 10 giugno in piazza Duomo a festeggiare! Ti voglio vedere festeggiare la quarta forse! Allora adesso ci attacchiamo a questo! 7 pagliaccio! Hai perso 7 derby! Sei un pagliaccio! Sei un pagliaccio! Sei un pagliaccio! Il 10 giugno ci vediamo! Ragazzi grazie sempre! Grazie sempre! Grazie!